Nuovo episodio della rubrica Giochi in 5 minuti, rubrica in cui vi spiego un gioco e vi aiuto a decidere se può fare per voi oppure no. Oggi parliamo di Moonscars, un Metroidvania Souls-like roguelite che trovate su tutte le piattaforme e sul Game Pass. Quindi Moonscars è un Metroidvania in 2D, ma con un hub centrale e degli specchi con la funzione dei falò, e in questo effettivamente assomiglia ad un Souls-like. Il combat, tuttavia, è prettamente hack and slash alla Castlevania in sostanza. Abbiamo un'arma per l'attacco leggero e altre armi, che acquisiamo temporaneamente, che possono essere usate per sferrare attacchi speciali, i quali hanno anche degli effetti aggiuntivi come stordimenti, sanguinamenti e simili. Possiamo schivare con il dash, saltare e anche effettuare perri premendo il dorsale anteriore destro del pad, ma vi dico la verità, io il perry non l'ho mai usato. Abbiamo la possibilità di equipaggiare fino a due witcheries, stregonerie, che sono un modo sostanzialmente per avere degli attacchi dalla distanza. Prima di continuare ringrazio veramente tanto gli abbonati di questo mese, ovvero Spezia66 e Daniel, e vi ricordo che se volete sostenere il canale potete abbonarvi tramite l'apposito pulsante vicino a quello dell'iscrizione, usare i super grazie che si trovano vicino al pulsante del like, oppure semplicemente mettendo like al video. Grazie mille del sostegno, ora continuo. Oltre alla classica barra della vita c'è anche la barra dell'Aicor. Questa barra si riempie colpendo i nemici e possiamo consumarla per curarci e per lanciare stregonerie. È una sorta di barra del mana mescolata con le fiaschette Estus, in pratica. Un'idea carina, perché in questo modo devi sempre decidere come usare la barra di Aicor, tenendo in considerazione che usandone troppa per curarti, poi non potrai usare stregonerie e viceversa. Ci sono nemici normali da affrontare come meglio si crede, e altri che invece conviene fortemente affrontare sfruttando le loro debolezze. I nemici con gli scudi, ad esempio, sono vulnerabili quasi solamente se colpiti alle spalle. Ci sono poi i nemici un po' più tosti e infine i boss veri e propri. Ci tengo a sottolineare che la difficoltà non è assolutamente paragonabile a quella di un Souls, ma il gioco è comunque soddisfacente e gustoso. L'arsenale a nostra disposizione sembra essere molto ridotto. Ho giocato le prime ore di gioco, quindi magari qualcos'altro troveremo. Ci sono infatti la spada e poi tutte le armi secondarie. Però c'è un bel albero delle abilità da riempire, ed è così che dovremo spendere le ossa, la valuta simile alle anime dei Souls che otterremo sconfiggendo i nemici. Gli aumenti di salute, icor e potenza degli attacchi sono legati non al level up, ma al ritrovamento di oggetti durante l'esplorazione della mappa. Il level up, dunque, non è molto GDRoso, non riguarda le statistiche, ma solo le abilità. Oltre alle armi potremo equipaggiare fino a tre amuleti e potremo scegliere noi quali equipaggiare. Combinando gli amuleti con la parte roguelite del gioco, creeremo ogni volta che risuscitiamo una nuova build, se vogliamo. Vi spiego meglio. Uccidendo nemici otteniamo Spite, la barra in alto con la luna vicino, e ogni volta che riempiamo la barra possiamo ottenere un potenziamento. Questi potenziamenti scompaiono, anche se non tutti in una volta, quando moriamo. Questo è un primo elemento roguelite, che però ha una grossa influenza sulla partita. Pensate che i perk ci danno potenziamenti alle cure, probabilità di colpo critico aumentata e simili. L'idea di legare un elemento temporaneo ad un gioco lineare, che non è una struttura tipicamente roguelite, conferisce una certa dinamica al gioco, che sfugge alla ripetitività anche grazie a questa caratteristica rogueliteana. Passatemi il termine. L'elemento che più mi ha conquistato comunque di Moonscars è l'atmosfera, resa da uno stile artistico bladborniano, horror, molto minimale in pixel art, ma estremamente efficace, che si combina con una soundtrack molto ambient, ma, raga, veramente fantastica. Questi due elementi, uniti ad una narrativa criptica e molto souls-like, conferiscono al gioco una tensione intensa, mistica, che mi ha catturato completamente. Il gioco costa 20 euro e, francamente, per la, tra virgolette, banalità del prodotto, simile a tanti altri, seppur con le sue peculiarità, non vi consiglierei di acquistarlo a prezzo pieno. Però, se avete il Game Pass, passateci un'oretta perché potrebbe conquistarvi come è successo con me. Se amate le atmosfere pesanti, mistiche e horror unite ad una narrazione souls, questo gioco potrebbe piacervi anche parecchio. Considerate anche che il gioco, purtroppo, è solo in inglese, quindi godere della narrativa sarà un po' difficile, nel caso non mastichiate la lingua abbastanza bene. Spero che il video sia stato di vostro gradimento, io mi sto immergendo nel gioco e sono veramente soddisfatto del prodotto. Fatemi sapere voi cosa ne pensate nei commenti. Grazie mille per la visione e ci vediamo al prossimo video.